Sette progetti di cambiamento su dieci in azienda falliscono o non raggiungono i risultati attesi all'inizio del progetto e molto spesso le aziende indirizzano nella resistenza al cambiamento la causa numero uno di questo risultato disastroso. In questo video vi parlerò delle cinque regole per non far fallire qualsiasi progetto di cambiamento in azienda. Sono Luciano Attolico, autore di diversi libri di Management per la crescita di persone e aziende, cofondatore e amministratore delegato di Lenovi, società di consulenza e formazione aziendale accreditata dal Financial Times tra le mille aziende europee con il più alto tasso di crescita di innovazione organica. Ideatore della metodologia Lean Lifestyle che si prefigge un solo obiettivo, quello di consentire un aumento di risultati e di valore in azienda coniugati ad un aumento di benessere personale e organizzativo. Spesso in azienda si fanno partire progetti senza considerare opportunamente i rischi che si corrono durante quel progetto stesso. Magari sto pensando ad una nuova organizzazione, magari sto pensando ad un nuovo prodotto da lanciare, magari sto pensando a migliorare l'efficacia di un processo commerciale, di un processo produttivo, di un processo amministrativo. Parto col progetto ma commetto degli errori grossolani direi io che non ti consentono di ottenere risultati attesi o comunque degli errori che lasceranno morti e feriti lungo la strada dal punto di vista della soddisfazione. Negli ultimi dieci anni di attività come amministratore delegato di Lenovis, come consulente sul campo, come formatore sul campo, a fianco di centinaia di manager e imprenditori, abbiamo svolto centinaia di progetti, per l'esattezza oltre 350 clienti seguiti solo negli ultimi dieci anni, oltre 20.000 persone formate e oltre 650 progetti di cambiamento. e abbiamo avuto un modo di toccare con mano le cause di fallimento, abbiamo avuto un modo di toccare con mano cosa favorisce la riuscita di un progetto e cosa la ostacola, cosa bisogna fare per far avere successo ad un'iniziativa, ad un progetto. Ne parlo nel mio libro Toyota Way, 14 principi per la rinascita del sistema industriale italiano e in questo video vi do un sunto di quelli che secondo me sono quelli più efficaci. Partiamo da quello che gli inglesi chiamano reason for action. Perché? Quindi è importante inquadrare l'intero progetto in un ambito di motivazioni profonde per l'azienda e per i collaboratori che vadano un po' in alto, che mettiamo nel capitolo della visione dell'intero progetto, che deve essere chiara ad imprenditori, manager, collaboratori, perché se non sottolineo l'importanza e il significato che il progetto riveste per l'intera azienda, confonderò delle attività di progetto con delle attività tattiche e questo è un errore di base. Vi può sembrare scontato ma il significato che si danno alle cose fa la differenza nella tua performance. Due persone fanno la stessa cosa ma una persona da un significato profondo, l'altro da un significato meno profondo, più superficiale, più tattico, la performance di queste due persone sarà completamente diversa. Quindi come si declina una visione nell'ambito di un progetto? Devo avere chiarezza dei risultati che posso conseguire in un arco temporale di 3-5 anni ad esempio, quindi devo spostare l'orizzonte in avanti, devo rendere consapevoli le persone del percorso intero. Cosa posso ottenere alla fine di questo percorso? 3-5 anni? Perché è importante spostare la sticella nel tempo così in avanti? Perché slego dai vincoli dei problemi che posso trovare nel breve termine, nell'immediato e quindi la visione la creo spostando il focus dal day by day, dal quotidiano e portandolo in un momento in cui la persona può anche lasciarsi andare ad immaginare qualche risultato che oggi ritiene quasi impossibile. Nella gestione del tempo, nella gestione dei risultati, nella gestione degli scarti, nella gestione dell'efficienza, nella gestione della produttività, in qualsiasi ambito tu stia focalizzando il tuo progetto di cambiamento, cerca di crearti la visione, cerca di trasmetterla agli altri e cerca di capire le ragioni che rendono indispensabile la realizzazione di questa visione a medio e lungo termine. Se non fai questo lavoro e comincia ad operare con la testa verso il basso, rimarrai con la testa verso il basso e alla minima difficoltà abbandonerai, perché non hai abbastanza significato, non hai abbastanza fuoco nella tua caldaia da far ardere. Il secondo errore da non commettere, che diventa la seconda cosa da fare assolutamente per garantirti il successo di un progetto di cambiamento che possa essere piccolo, che possa essere grande, a seconda di quella che è la tua trasformazione in atto, si chiama comunicazione. Ho parlato di visione e il primo elemento da comunicare è proprio questa visione, in modo opportuno, in modo coinvolgente, quindi questo metterà in discussione lo stesso top management, quindi l'imprenditore, i manager, perché se non sono caricati, se non sono loro i primi, sostenitori di questa visione e quindi se non sono loro i primi a comunicare questa visione, beh, l'insuccesso è garantito. Quindi la comunicazione parte dall'alto, va verso il basso, questo sì è top down, perché un processo di trasformazione deve partire dall'alto e deve essere sostenuto dal basso. Quando si parla di lean management, di lean production, si dice che si dà potere alle persone, che le persone dal basso cominciano a diventare proattive e responsabili, sì è tutto vero, ma qualsiasi trasformazione nasce da chi guida l'azienda, quindi se chi guida l'azienda non è capace di comunicare con efficacia, non è capace di accendere il fuoco nelle sue persone, non è capace di coinvolgere le persone attraverso una comunicazione efficace, coinvolgente, interessante, sarà difficile che le persone mettano il loro meglio, il meglio di se stessi nel progetto che si sta facendo partire. Quindi comunicare dall'alto verso il basso e mantenere tra l'altro la fiammella della comunicazione sempre accesa durante il progetto, comunicare i risultati anche se piccoli che si stanno ottenendo, comunicare i fallimenti e trasformarli in lezioni da imparare, comunicare le difficoltà, comunicare i successi, comunicare la squadra, comunicare chi è coinvolto e chi no, comunicare i piani di sviluppo e tenere la comunicazione sempre accesa attraverso tutte le possibilità che tu hai, tutti i canali, hai il canale della comunicazione stampata, virtuale, via email, via web, con il tuo sito internet o con altri strumenti che hai, la comunicazione più importante però dal mio punto di vista è la comunicazione che le persone fanno e quindi è importante definire dei comunicatori dell'iniziativa sempre sin dall'inizio e nel corso del progetto scegliere come comunicatori i team leader, gli operatori, le persone che stanno facendo accadere le cose e quindi mettendoli in condizione di parlare del progetto, parlare dei successi, parlare anche delle lezioni imparate ovvero degli insuccessi, quindi la comunicazione deve essere un fil rouge sempre presente per l'intera durata del progetto. Il terzo motivo di insuccesso che possiamo trasformare in motivo di successo per il nostro progetto riguarda proprio le condizioni di lavoro delle singole persone coinvolte nel progetto. Faccio il mio progetto lean, ho il progetto di implementazione di un nuovo software gestionale, faccio il progetto di revisione organizzativa, sì, ma io cosa ne guadagno? Io operatore, io collaboratore, io impiegato, io manager, io imprenditore, ci sono tanti io in azienda, cosa ne guadagniamo? È importante nel progetto identificare i benefici attesi dalle singole persone. Guadagnerai più tempo? Farai meno straordinario? Le tue condizioni di ergonomia sulla linea miglioreranno? O lavorerai meglio? Avrai meno stress? Quindi è molto importante declinare i benefici a livello delle singole persone. Se volete che le persone vi diano sostegno e diano sostegno all'intera iniziativa, è importante che loro riconoscano un beneficio tangibile su se stessi, oltre che sull'azienda. È vero, lavoriamo tutti per l'azienda, ma siamo tante persone all'interno dell'azienda che hanno bisogno assolutamente di trovare anche un motivo personale. E vi assicuro che se i progetti di cambiamento sono fatti con efficacia, danno sempre un vantaggio sia all'azienda, sia alle persone impegnate nell'azienda. Se il mio progetto non è in grado di dare congiuntamente vantaggi tangibili sia all'azienda sia alle persone, beh, probabilmente è un progetto che ha qualcosa che non va sin dall'inizio. Quindi costringervi a trovare i vantaggi per entrambi i sistemi, i sistemi dell'azienda, i sistemi individuali, è fondamentale se volete che le persone vi sostengono e che trovino un interesse personale nell'iniziativa stessa. Quarto motivo che porta al fallimento molti progetti sono i continui cambi di rotta, quelli che in inglese si chiamano scattering. Quindi ogni volta che si cambia direzione, perdo energia nella direzione precedente. Magari ne acquisisco nell'altra, ma poi la riperderò perché ho ricambiato direzione. E quello dei cambi di rotta, dei cambi di priorità continui sta diventando un problema veramente pesante in tante aziende, perché non si fa altro che cambiare obiettivo, cambiare rotta velocemente, a volte mettendo in difficoltà le persone stesse che lavorano in azienda, ma mettendo in difficoltà anche l'azienda stessa. Quindi è molto importante cercare di capire come mantenere la rotta fissa, la direzione, ed è importante capire che gli obiettivi devono rimanere costanti e fissi. I mezzi per raggiungerli possono cambiare. Quindi attenzione a non confondere i cambi di rotta nella flessibilità da raggiungere per ottenere gli obiettivi. Quindi molto spesso invece si cambiano mezzi e obiettivi e questo crea una confusione incredibile. A volte certi progetti hanno bisogno di tempo per dare i suoi frutti, è importante che gli obiettivi rimangano ben definiti, gli obiettivi per l'azienda, gli obiettivi per le persone. Puoi nel tempo cambiare modalità, cambiare contromisure, cambiare progetti stessi che metti in campo, ma gli obiettivi devono rimanere costanti. E quindi rigidi con gli obiettivi, flessibili con i mezzi, riducendo i cambi di rotta al minimo possibile. Quinto motivo per far fallire i vostri progetti è mirare alla perfezione. Sembra un po' un controsenso perché anche il quinto principio del lean thinking recita mirare alla perfezione se volete far crescere continuamente le vostre persone e le vostre aziende, io vi dico puntate alla pratica piuttosto che alla perfezione. È molto meglio mettere in pratica le cose e correggere il tiro stradopacendo piuttosto che puntare alla perfezione. Molto spesso chi punta alla perfezione è il re dei procrastinatori. La procrastinazione è dovuta molto spesso all'attesa di perfezione che siccome non viene raggiunta nel breve termine o facilmente giustifichi il fatto di procrastinare o di cambiare rotta addirittura. Se vogliamo essere efficaci nel condurre un'iniziativa di trasformazione aziendale, ok puntare a grandi risultati ma dimenticatevi la perfezione. Sappiate che qualcosa la farete bene, qualcosa la sbaglierete ma è molto meglio approcciare alla trasformazione come ad una serie di esperimenti che possono dare a volte dei risultati positivi da cui imparare ma anche dei risultati negativi da cui imparare. L'importante è mettere in pratica e far passare alle persone questo senso di percorso, di pratica, senza paura di sbagliare ma solamente orientati all'azione continua di miglioramento e di continuo perfezionamento che non significa fare le cose perfette da subito. Come potete approfondire i temi trattati in questo video? Potete approfondirli sul mio libro Toyota Way scritto con il guru mondiale del tema Jeffrey Liker. Qui troverete altri principi, altre modalità, altri schemi, molti casi applicativi. Potete utilizzare altri miei video e a tal proposito vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube e di cliccare la campanellina a destra per cui riceverete le notifiche di tutti i nuovi video che faccio e che facciamo insieme alla mia squadra, ma la via più semplice e immediata per approfondire è questa qui. Metti in pratica, sperimenta, dimentica queste parole e metti in pratica nel più breve tempo possibile perché questo ti consentirà subito di portare a nuova luce e a nuova efficacia quello che hai ascoltato. Ti auguro buon lavoro e buon lifestyle.